Stai facendo due conti prima di iniziare la tua avventura. Cap B e iscrizione al ruolo li hai già presi, ora basta trovare un'autorizzazione e ci sei. Cosa serve adesso? Un commercialista che ti aiuta ad aprire la partita IVA e poi un'autorizzazione, possibilmente dentro la provincia in cui presterai il servizio, non mi stancherò mai di dirlo. Un mio ex driver, dopo essersi staccato da me, ha provato a mettersi in proprio, però non avendo forti capacità economiche e soprattutto non trovava nemmeno nessuno che vendesse, diciamo, in zona, si è fatto abbindolare da non so chi e ha acquisito un'autorizzazione di un comune a 800 km da casa sua. Io capisco la voglia di iniziare, ma così significa cadere nel ridicolo e inoltre sarai penalizzato. Come? Primo, i collaboratori ti bandiranno perché figa io ne ho spesi 50 per fare le cose fatte bene e tu fai il furbo, come non lavori più. Due, quando dovrai presentarti in un'azienda e ti verrà chiesto di presentare il tuo parco auto più tutta la documentazione inerente alle autorizzazioni, verrai visto come il disonesto della situazione. Tre, fingiamo che un'azienda ti dia la sua fiducia e ti inserisca come fornitore principale. Dovrai pregare tutti i giorni che uno come me non lo venga mai a sapere. Su queste situazioni ci vado a nozze. Diventi il mio nemico proprio il numero uno. Userei il tuo punto debole per demolirti ed entrare poi al posto tuo. Anche se così è come rubare le caramelle ad un bambino. Lo faccio lo stesso perché sei un disonesto. Quattro, se dovessero fermarti le forze dell'ordine dovrai giustificare ogni volta gli 800 km che ti separano dalla provincia e quindi dalla tua rimessa. Sai che dobbiamo compilare il foglio di servizio, no? Il rischio è il fermo amministrativo. Insomma, hai risparmiato qualche soldino prima di iniziare ma hai tutto da perdere, non ne vale proprio la pena. Infine dovrai acquistare l'auto. Ho parlato molte volte del tipo di veicolo, ti lascio qualche link in descrizione. Ma veniamo al punto. In che modo acquistare? Hai tre soluzioni. Pagamento diretto, leasing o finanziamento. Il leasing a lungo termine sarebbe un'ottima opzione ma non esistono, che io sappia, società che te lo fanno fare. Se dovessi trovarle il problema sarebbe poi il chilometraggio. Perché è vero che hai assicurazione, bolo, tagliandi, gomme, assistenza 24 ore ed è tutto compreso in una lata. Però hai il limite dei chilometri. Superando i limiti in posto che possono essere 35-40.000 km l'anno pagherai una cifra fissa per ogni chilometro eccedente. Ogni mio mezzo si muove per almeno 10-12.000 km al mese. E sembrano molti ma alla fine se ci pensi bene sono 3-4 servizi al giorno per l'aeroporto. Da dove partiamo noi malpensa che l'aeroporto principale si trova a 50 km. Vai e torni e sono già 100. Io ho molto lavoro ma comunque 35.000 km in un anno non ti possono bastare. Perché arriverai ad aver paura anche ad andare all'autolavaggio. Ora fingiamo che ascolti i miei consigli e che hai trovato l'auto giusta. Ti descrivo i tre punti senza giudizi personali. Alla fine del video do le mie conclusioni. Pagamento diretto. Molti concessionari ti spingeranno a non pagarla direttamente. Mille scuse, mille robe. Solo per un guadagno personale. Ma questo chiaramente lo sai meglio di me. Perché il venditore guadagna sul leasing. Cioè guadagna di più sul leasing che sulla vendita della macchina stessa. Però se trovi una persona onesta lasci un anticipo del 20% alla firma del contratto e saldi con un assegno circolare o bonifico o bancario, diciamo, quando l'auto sarà pronta per la consegna. Quando acquisti come NCC ricorda di dire che l'auto deve uscire dal concessionario immatricolata come NCC. Dovrà essere collaudato in motorizzazione. Farà tutto il concessionario. Però glielo devi dire e devi portare anche un po' di documentazione. Tipo il nulla osta e cose così. Di solito il prezzo finale comprende auto più immatricolazione più collaudo NCC e messa in strada. Leasing. Il leasing non ti fa diventare proprietario del veicolo. Tu paghi le tue rate e solo all'ultima, spesso una maxirata, ma questo poi dipende dagli accordi, a quel punto lì ci sarà un trapasso a tue spese e diventerai poi il legittimo proprietario di un bene che hai strapagato. Il leasing te lo concedono facilmente se hai un reddito oppure qualche garanzia, perché tanto se non paghi il mezzo rimane a loro. Quando in Italia esplosa la moda dei leasing si usava a chiedere un bel anticipo. È una rata semplice. Diciamo bassa, tanto per dire. Per avere così la certezza che il cliente continuasse a pagare le rate. Chi è il pazzo che non paga se ha già dato un anticipo del 30-40%? Tu immagina su un'auto da 50.000 euro. Anticipo 15.000 euro e una rata di 350 euro al mese. Così tutti erano nelle condizioni di poter continuare a pagare. Dopo qualche anno però è cambiato qualcosa. Sono stati dei geni, dei veri geni. Le società di leasing hanno ben deciso di chiedere il 10% in anticipo, ma una grossa rata. 50.000 euro per l'auto, 5.000 euro di anticipo e una rata di 1.000 euro più IVA al mese. Ovviamente sono aumentati i clienti, perché prima avere il 30-40% da dare in anticipo non era proprio da tutti. Ora invece solo il 10% in qualche modo ce la fai. Tutto ok per il primo anno, magari anche per il secondo. E dopo che hai versato 5.000 euro d'anticipo più 20.000 euro di rate, perdi il lavoro. Oppure succede qualcosa e non puoi più pagare. Nessun problema signore, riprendiamo l'auto. E così la società di leasing si trova con 25.000 euro in tasca, più un'auto di due anni che vale ancora molti soldini. La rata del leasing è calcolata più IVA. La ricevi sotto forma di fattura mensile. Finanziamento Il finanziamento è certamente da fare con la tua banca, cioè con la banca con cui lavori, per due motivi. Primo, ti conoscono. Secondo, vedono il movimento del tuo conto. Il mio per dire ha un ottimo movimento. Sale quando incasso i pagamenti e poi scendo quando pago le spese. Quando però il mese successivo torno ad incassare, il saldo supera sempre la cifra che avevo prima di avere le spese il mese precedente, come delle montagnette in salita. Poi c'è una cosa che si chiama rating bancario. Le banche, come tutti gli altri istituti di credito, usano un metodo specifico per quantificare tramite l'assegnazione di un punteggio, rating, basato sulla disponibilità economica dell'impresa che chiede i soldi. Significa, quando è rischioso per loro concedere un finanziamento? Il finanziamento passa se il rischio è basso, quindi con un punteggio rating alto. Il rating molto alto ti dà anche un potere di negoziazione. Bisogna sempre migliorare il rating, ma come si fa? Non devi avere nessun conto corrente inattivo o con un saldo negativo. Se usi i fidi, devi farlo nella maniera migliore possibile. Non superare la soglia di credito che si ha a disposizione, rispettare i termini di rimborso dei crediti ricevuti e poi gestire al meglio gli insoluti. Conoscendo il tuo punteggio diventa tutto più semplice. Infatti io se chiedo soldi alla banca non si fanno mai problemi. Un'altra cosa importante del finanziamento è che sei subito il proprietario dell'auto, però se non paghi le rate la banca toccherà le tue garanzie, quelle che hai lasciato. Gli interessi di un finanziamento sono molto bassi rispetto alla società di leasing, ma non hai fattura perché è come se fosse un prestito. Conclusioni. Abbiamo giustamente dei pro e dei contro. I vantaggi sono che con il pagamento diretto non hai interessi, sei subito il proprietario e non sei schiavo della banca. Con il leasing detrai immensamente il costo e l'iva della rata. Il veicolo non essendo intestato a te non potrà mai essere sequestrato, anche in caso di guida sotto effetto di stupefacenti o di alcol. Il finanziamento ha degli interessi molto bassi e l'auto è subito intestata a te. Svantaggi. Con il pagamento diretto si indebolisce la tua liquidità ed è importante usare solo il 30% di ciò che hai da parte. Quindi se devi spendere diciamo 50.000 euro, è meglio averne 150 sul conto. Devi sempre abbassare il rischio. Il costo del veicolo andrà in ammortamento. In pratica scarichi la spesa in 3 o 5 anni. Ed è una bella noia perché tu 50 le hai già messi oggi, cioè nel senso nell'arco dell'anno in corso. Tutte le spese sopra i 516 euro più iva vanno in ammortamento, anche il telefono e il computer. Leasing. Hai degli interessi spesso assurdi, quasi da usuraio. Dovrai pagare il trapasso dopo aver pagato l'ultima maxirata, a meno che non entri in un circolo vizioso. Cioè dai dentro l'auto prima dell'ultima rata e ne compri un'altra. E continui a fare così per sempre. Non ne esci più. Io te lo sconsiglio. Il finanziamento rispetto al leasing è certamente meglio, però sei sempre schiavo della banca che ti tiene in pugno. E tu devi essere indipendente, non il loro schiavo. Anche in questo caso la spesa va in ammortamento dai 3 ai 5 anni. Abbiamo visto le diverse possibilità. Personalmente sono per il pagamento diretto, forse si è capito. L'auto è mia e se ho qualche problema finanziario la vendo immediatamente e ho subito i soldi in tasca. Non ho soldi da dare in giro, da pagare interessi o altro. La rottura di coglioni è che la detrai in ammortamento. E quindi pagherai delle tasse che con il leasing ti potresti evitare momentaneamente. Però alla fine due cose sono certe. La morte e le tasse. Quindi vuoi o non vuoi, prima o poi devi pagare queste tasse disgraziate. Fa girare il cazzo a tutti pagare le tasse, però fa parte del lavoro. Prima ti entra nella testa e prima cominciamo a fare impresa. Pensa che ho un amico che ha un'azienda. Lui compra un prodotto e lo rivende ad altri. Lui smette di fatturare e quindi di lavorare verso ottobre. Cioè ogni anno ad ottobre non dà più il servizio ai suoi clienti. Eh, perché sennò pago troppe tasse. Dice, è pazzo questo qui completamente. Infatti quando ci vediamo parliamo di tutto tranne che di lavoro. Ho il vaffanculo facile. Esistono mille milioni di modi per pagare meno tasse legalmente. Con la ditta individuale è un po' più complesso. Invece con l'SRL ha dei vantaggi pazzeschi. Rimanendo sempre nella legalità. Questo però è un altro argomento. Questo però è un altro argomento.